Non ci volle molto perché la mia opera dilagasse in tutta Valkenheim, ma l'inverno seguente, nel clan conosciuto come Sanguinari, si levò un razziatore solitario. La sua intenzione era riunificare il suo popolo. Talvolta, tra i vichinghi, nascono eroi con una scintilla divina. Il loro nome, Razziatorin, può far radunare interi eserciti, spietati, indomiti, nati per la guerra. L'ora della morte di un vichingo è già decisa dal fato. Quindi, che bisogno ha della corazza? O della paura? È passato un anno dall'arrivo di Apollyon. La gente moriva di fame. Ma il peggio è che lottavamo fra noi, come bestie. Nutrendosi delle sventure del suo popolo. Ragnar era una di queste. Esteggiamo! Proprio per questo motivo, scesi dalle montagne. Mi unì ai Sanguinari e pensammo noi a risolvere la situazione. Dovevamo fare qualcosa per sterminare i parassiti del nostro popolo. È inutile! Non possiamo farci! Diamo fuoco a quelle porte! Elvi aspetta tutti! Sghiacciate quei verdi! Dobbiamo dare fuoco alle porte! Dategli fuoco! Cibo! Lo dicevo. Forza! Siamo qui per questo! Troviamo il resto! Per il popolo! Avevano sottratto cibo a... Noi eravamo là per riprenderlo! Non ho ancora finito con te! Guardateli! Vedo qualcuno là! Informazione! Inutile! Sì, vinta! Sì, vabbè! Bruciate tutto! Bruciate tutto! Prodeggetelo! Il cibo serve per il popolo! Difendetelo! Quello è il nemico! Forse un altro razziatore avrebbe avuto età. Arrendetevi! Ora! Bruciatevi! Ora è nostro! I rifornimenti! Difendetelo! Lo difenderemo noi! Dobbiamo arrendrare! Non c'è gloria nella fuga! Unite i sanguinari e vedrete! Si ritirano! La vittoria è vicina! Non costringetevi! Arrendetevi! Massacrateli! Il nemico è rotto! Il nemico è rotto! Il nemico è rotto! Il nemico è rotto! No! Il nemico è di più! Il nemico è rotto! Il nemico è rotto! Eccolo lo sciolto! Il colpo preciso! Vedete! Ne avremo abbastanza! Ragnar, se ne fornirà parecchio! Ragnar, è in cima alla collina! Non ero là solo per il cibo. Ciò che volevo era Ragnar. Ragnar, è in cima alla collina! Andiamo perdendo lo scopo! Ma chi? Che cosa succede là fuori? Tu! Affrontami! Entra pure allora! Ecco, per cosa ero venuto! Sanguinari! Vesta Я! Chi li fuckin' Vista! L'entra allo shmamma! Ch 설마! Là? Intraver! Siamo sanguinari! Non esiste alcun razziatore! Non siete diversi da noi! Non mi sarei fatto scappare, Ragnar! Siamo sanguinari! Non puoi scappare! Brucia all'inferno! Brucerà le tue ossa! Brucia all'inferno! Brucia all'inferno! Brucia all'inferno! Ciò che hai fatto è sbagliato! Come puoi ingozzarti mentre il tuo popolo muore di fame? Tu e i tuoi guerrieri vivrete secondo le nostre regole! O diventerete cibo per i corpi? Idiota! Vorresti farmi diventare un... Contadino! No! Noi siamo vichinghi! Sarebbe un no? Valhalla! Sei tu il capo ora? Sei tu il capo ora? Non sembrava un granché, ma era un buon inizio!